Ciao a tutti, noi siamo ancora nel Tempio di Karnak, troviamo le scene nella sala ipostila. Il faraone brucia l'incenso davanti alla barca sacra del dio Amunra, che troviamo sempre questa barca con la testa di ariete. L'ariete è il sembro divino o il sembro animale del dio Amunra. E queste sono le anime di Bonto e l'anima di Nikin, con le maschere di Anubi e il falco, portano sulle spalle la barca sacra del dio Amunra. Qui troviamo Ramses II, Ramses il Grande, porta una tavola d'offerta per il dio Amunra con la doppia piume sulla testa e la sua morie Mut. E troviamo qua ancora Ramses, brucia l'incenso, fa l'offerta per il dio Min, il dio della fertilità. E qui troviamo Ramses ingiunucchiato, davanti il dio Amunra, seduto sul trono, indietro di Amunra, conso, il figlio di Amunra. E indietro di Ramses II, Mut, la modia di Amunra. Così Ramses ingiunucchiato, davanti la famiglia divina di Amunra, padre, madre e figlio. E indietro di tutti c'è il dio Thoth, il dio della scrittura sacra. E il dio anche della conoscenza egiziana. E troviamo Amunra, porta, come un cistino. E dentro questo cistino ci sono quattro rane. Rane, o la rana per gli egizi, rappresenta il numero 100.000. E sono quattro, vuol dire 400.000 anni che riceve Ramses II per governare l'Egitto. E questa scena è che mostra Amunra, abortato, 400.000 anni per Ramses II di governare l'Egitto. Ma purtroppo Ramses ha governato solo 78 anni. E' morto quando aveva 100 anni, ma lui voleva di essere immortale, di governare 400.000 anni.